Il Molise è evidente, ancora caratterizzato da forti segnali di debolezza strutturale, un concetto che Cigelle, Cisle e Will hanno ribadito anche in una lettera aperta, inviata al presidente Frattura, ritengono urgente e indifferibile, ormai un confronto costante con le parti sociali per definire un patto per il lavoro e lo sviluppo regionale. Vogliono quelle risposte rinviate nel tempo, un crono programma condiviso per risolvere le vertenze. Siamo all'anno zero, dicono i sindacati, il sistema è al collasso. Fiscalità, politiche industriali, investimenti, credito, area di crisi, programmazioni di fondi comunitari e nazionali, riorganizzazione dei servizi pubblici e della sanità, turismo, politiche agricole, commercio, sono tutti i temi su cui il confronto è arenato o non è mai partito. I risultati, sostengono nella lettera Cigelle e Cisle Will, stentano ad arrivare nonostante una serie di condizioni favorevoli. I sindacati sottolineano sì l'importanza di uno sforzo congiunto, l'unico possibile per raggiungere i risultati, ma allo stesso tempo ritengono pericoloso e non più accettabile l'atteggiamento della giunta regionale che spiegano di fatto sta evitando il confronto con le parti sociali che rappresentano gli interessi dei lavoratori in una fase delicata e di estrema difficoltà economica e sociale del Molise. In mancanza di riscontri concludono come esponenti sindacali eserciteremo il nostro ruolo di tutela. Insomma, avviso di mobilitazione ancora una volta l'ennesima, nella speranza che la classe politica esca da quel palazzo dorato in cui è arroccata e dia quelle risposte che per ruolo è deputata a dare. Intanto Cigelle e Cislewil con un'altra lettera a frattura e agli assessori Facciolla e Veneziale sollecitano con urgenza un incontro sullo zuccherificio dopo il fallimento. Una situazione precipitata, rimarcano, per cui è necessario agire in fretta coinvolgendo i livelli nazionali, sia sindacali sia istituzionali. L'esercizio provvisorio permetterebbe la campagna e il mantenimento delle quote, ma gli ammortizzatori scadono a fine agosto e il futuro dei lavoratori è nero, nerissimo.